I alunni dell'Istituto Comprensivo Rodari Annecchino di Monteruscello, questo pomeriggio, hanno vestito i panni di giovani cronisti al timone di un vero e proprio talk show dal titolo Pozzuoli, la cultura e il territorio, andato in scena al teatro della Chiesa Sant'Artema. I bambini che sono giunti alla fine del quarto anno della scuola primaria Rodari hanno intrapreso questo progetto all'inizio dell'anno scolastico, seguendo un percorso didattico dal titolo Redattore Anch'io. A seguirli in questo cammino, che li ha visti ricoprire i diversi ruoli dei quali necessita una redazione giornalistica a tutti gli effetti, un addetto ai lavori, il giornalista Ettore De Lorenzo, in qualità di esperto e la docente tutor Teresa Cautiero. Scopo del progetto è far vivere agli alunni la città dove vivono in modo attivo, acquisendo capacità di rielaborazione critica delle informazioni e maturando atteggiamenti di cittadinanza consapevole. A questo scopo i giovanissimi reporter sono partiti alla scoperta delle origini di Monteruscello, quartiere dove vivono e frequentano la scuola, e lo hanno fatto realizzando interviste ed approfondimenti sul territorio. Ciò ha permesso loro di venire a conoscenza dei servizi e delle opportunità offerte dal contesto sociale nel quale vivono, anche a livello formativo e ricreativo. Questo pomeriggio tutto il lavoro svolto in un anno scolastico si è tradotto in un talk show, alla presenza di vari ospiti rappresentativi della realtà politica e culturale di Pozzuoli. Il sindaco Vincenzo Figliolia, l'assessore alla Pia Alfonso Trincone, il capitano dei carabinieri Elio Norino, il presidente delle manifestazioni Malazze, il direttore artistico di Pozzuoli, Jazz Festival Antimo Civero, il parroco della parrocchia Sant'Arte Madonelio. A loro e a tutti i puteolani che hanno preso parte all'incontro, gli studenti hanno mostrato con entusiasmo i servizi giornalistici che hanno realizzato e che probabilmente sono serviti anche a svelare ai più grandi il punto di vista dei bambini e a palesarne le esigenze.